Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 4 km di coda tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Per quanto riguarda le statali, sulla due via Cassia, senso unico alternato per lavori di ripristino dopo una frana tra i chilometri 150 e 700 e 151 a Radicofani, in provincia di Siena. Per la viabilità cittadina a Firenze per lavori, divieto di transito in via del Paradiso nel tratto compreso fra via Fortini e via San Marcellino. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!